buongiorno anzi buonasera a tutte ragazze a tutti nuovo video che crescio anche oggi barra skin care routine anzi skin care night routine volevo un po parlare con voi e parlare un po della mia come dalla giornata come state spero bene allora mi devo lavare i denti e poi struccare quindi facciamo la perla chiacchierata insieme anzi la chiacchierata la facciamo un altro momento però per adesso mi lavavo i denti prendo i denti con sotto il dentifrice della sensodine che sarebbe questo qua sensodine vedete eccolo qua e niente ora mi lavo i dentini e poi ovviamente sto col video e ci vediamo dopo ecco un quattro ritorno ne lavate i denti tutta bella a posto ora mi devo lavare cioè prima tutto mi strumento con questo acqua micellare della carner che è ottima ottimale top ho questi sottoscritti della licea che vedete un po' di qua ci sono trovando temissimo direi ne ho altri ma un momento voglio usare questo non si sfaltano come gli altri non di top ok top ora mi strumento tutta volta per benino ovviamente vedete eccomi qua ok poi vado con la doppia detersione ovviamente è brutto a vedere però questo e questo è la realtà ragazze mia come vi devo dire eccoci qua aspettate un secondo che vi raddrizzo un po' io voglio raddrizzare un po' ok e niente ragazze oggi sono stata tutto il giorno a dormire a nanna non ho festeggiato san valentino perché sono singolo quindi me ne può fregate meno però per me san valentino dicono anche se non sono fidanzata né niente però va bene così perché non trovo qualcuno sto sola sto sola meglio su lei che me l'accompagna diciamoci la verità è così ragazze per me perché ok se ne è volato tutto il mascara che c'era mamma mia quanta roba qua c'era una ce n'era tantissima un altro po' si direi si madonna ma quanto ce n'è ma sono io che vedo male o cosa questa parte qui così sì così mi sembrava strano infatti devo insistere di più così devo struccarmi per bello stanotte sennò non vado a letto sono bella struccata ok questa è andata adesso secondo me questa è finita di struccarmi vado con di struccarmi quindi torno subito eccomi qua ragazzi sono tornata adesso devo utilizzare questa micellare una per iscriviti al canale è ultimo attunz e poi la premo per vedere un po' se si è andato via tutto il macello che avevo in fronte e soprattutto come vedete le pelli ha tolti tutti da qua vedete non da qui ma da qui si non so se si percepisce c'è solo l'ombra ma neanche ha tolto tutto mia nonna ha fatto una bella pulizia mia nonna è stato proprio in grado oddio che rossa che sono è naturale comunque che sono rossa perché con il trattamento che ho fatto stasera sono proprio rossa non so se si nota poi sono caucasica e si capisce che sono caucasica non so se l'avete capito voi ma io sono più pianta che nera che di colore diciamo la verità più pianta che di colore e quindi ecco perché non sono di colore però non mi dispiace anche se vabbè niente non ne vogliate ma anche se non sono va bene così ecco qua e nulla a posto adesso prendo la crema ed ecco sempre la sorta di vicino perché questa cosa non l'ho finita anzi sono ancora l'inizio vedete sono all'inizio non so se si percepisce sono all'inizio ok comunque non si sa che levi però non si sa che levi ok si sa che levi a posto, ragazzi mie ok, lavata, struccata di terza lavata i denti adesso tra poco me ne vado a guardare la televisione e non solo, vi dirò di più ho già fatto una lunga passeggiata oltre a dormire dopo, dopo al pomeriggio inoltrato sono stata un po' in giro per il palau nulla di che non ho fatto un po' in giro con l'amica pedagogista nulla di che e poi ho incontrato anche mia madrina perché anche lei è pedagogista non fa bene i dettagli sto parlando di mia madrina di crisi e poi niente alla fine sono riuscita a trascorrere un bel sereno pomeriggio nulla di che quindi non lo so ragazzi mie secondo me è bello il pomeriggio che ho trascorso già a parte san benedio che chi se ne frega il resto è quello che e niente scusate un attimo vado a buttare questo ok e niente ragazzi mie quindi ragazze che ne dite se chiudo qui la serata perché sono già non so quanti minuti ho registrato i video e non vorrei che non vorrei che di poter essere troppo lungo ma niente troppo corto e quindi non lo so io mi devo mettere il burro cacao perché non l'ho ancora aperto perché ho le labbra proprio secchissime secche disidratate quindi hanno bisogno un po' di di idratazione le labbra quindi prenderlo semplice pure a cadere la pelle nulla di che ma come a questo non so se ve l'ho detto ma questo ancora lo devo utilizzare ho sentito dire che è buono non lo so però lo voglio provare e poi niente ragazze come come rischi distrucanti ancora ho da finire questi non so cosa sto aspettando ce n'è ancora un bel po' questi sono della Everspin però vabbè oramai ho utilizzato quelli della della farmacia vabbè niente quindi basta ragazze se questo video vi è piaciuto fate un bel like però adesso è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao attivate la campanella seguitemi su Instagram come youtuber melania trattino basso 8 e su tiktok come melania beauty make up beauty make up e basta ciao a presto un bacio